Benvenuti nel mondo degli orologi Roma. Roma è un marchio svizzero di orologi fondato nel lontano 1888 a Zolotuan. Da allora, il marchio ha continuato a distinguersi nel settore dell'orologeria grazie alla sua attenzione ai dettagli e alla sua capacità di innovare costantemente. Roma è noto per la produzione di orologi di alta qualità, caratterizzati da un design elegante e raffinato. La storia di Roma è ricca di innovazioni tecniche e di design. Roma fu tra i primi marchi ad adottare il movimento a carica automatica, che ha consentito agli orologi di funzionare senza bisogno di essere caricati manualmente. Nel corso degli anni, Roma ha continuato a innovare, producendo orologi con funzionalità come la resistenza all'acqua e la visualizzazione della data. Oggi, Roma offre una vasta gamma di orologi, tra cui modelli da uomo e da donna. Gli orologi Roma sono realizzati con materiali di altissima qualità, come acciaio inossidabile e pelle, e sono disponibili in una varietà di stili, tra cui classico, sportivo e contemporaneo. Un'altra caratteristica distintiva degli orologi Roma è la loro precisione. Gli orologi Roma sono dotati di movimenti svizzeri di alta qualità, che garantiscono una precisione e una affidabilità senza pari. La precisione è uno dei principi fondamentali dell'orologeria svizzera, e Roma si impegna a rispettare questo standard in ogni suo prodotto. Roma è anche noto per la sua attenzione ai dettagli e alla cura delle finiture. Ogni orologio Roma è realizzato con un elevato livello di precisione e con un'attenzione minuziosa ai dettagli, che conferisce agli orologi un aspetto elegante e raffinato. Ma Roma non è solo un marchio di orologi di alta qualità, è anche sinonimo di esclusività. Roma produce un numero limitato di orologi ogni anno, utilizzando solo i migliori materiali e le tecniche di produzione più avanzate. Questo assicura che ogni orologio Roma sia unico e prezioso, destinato a durare nel tempo e a diventare un oggetto di culto per gli appassionati di orologi. Se stai cercando un orologio di alta qualità, che unisca l'innovazione tecnica all'eleganza e all'esclusività, Roma è la scelta perfetta per te.